Ancora controlli serrati della Polizia Municipale di Arezzo e scattano così di nuovo una raffica di multe. I vigili hanno infatti passato al setaccio l'area tra Salleo ed Indicatore, multando un'auto su cinque all'ingresso della città. I controlli hanno interessato una delle principali arterie del Comune di Arezzo e così tra le 8 e le 16 e 30 due ufficiali ed otto agenti hanno monitorato la strada regionale 69 appunto all'altezza della località di Salleo, Pratantico ed Indicatore, un'attività rivolta in particolare alla verifica del rispetto dei limiti di velocità e delle norme sull'autotrasporto, problematiche particolarmente sentite dai residenti. Al vaglio degli agenti sono così finiti 55 veicoli, 10 de quali sanzionati a Salleo e Pratantico per il superamento dei limiti di velocità mentre ad Indicatore sono state elevate 20 sanzioni a veicoli pesanti. La scorsa settimana l'attenzione degli agenti della Polizia Municipale si era invece concentrata sulla strada regionale 71 tra Case Nuove di Ceciliano e l'incrocio verso la Libia. In quel caso i vigili avevano elevato ben 42 multe lungo la Umbro casentinese.